Buon pomeriggio a tutti e ringrazio Trentino Sviluppo di questo invito per l'opportunità di raccontare la nostra esperienza di crescita e di maturazione. Città Futura è una cooperativa sociale che opera nei servizi alla prima infanzia. Gestiamo asili nido rivolti a bambini dai tre mesi ai tre anni di età, quindi la fascia dei bambini più piccoli. Negli anni accanto agli asili nido si sono affiancati altre tipologie di servizi come i centri estivi, gli spazi bambino-famiglie o la ludoteca. Attualmente occupiamo 220 operatrici e gestiamo 20 servizi distribuiti sul territorio provinciale. L'ultimo bilancio abbiamo chiuso con 5 milioni e 600 euro di ricavi. Per il momento va bene questa. Fin dall'inizio dell'attività della cooperativa, noi quest'anno è il diciottesimo anno di attività, siamo cresciute con una certa regolarità. Abbiamo iniziato l'attività con un nido, poi dopo si è affiancato il secondo, eccetera. Ad eccezione di un periodo, 2004-2006, nel quale lo sviluppo è stato molto repentino. Si sono proprio raddoppiati i numeri delle operatrici occupate e dei servizi in gestione. In quel periodo avevamo vinto diverse gare d'appalto, erano piaciuti i progetti tecnici presentati all'interno delle procedure, e diverse famiglie soddisfatte anche dei servizi li avevano promossi sul territorio e quindi le liste di attesa si erano incrementate e quindi diversi comuni si erano trovati a dover portare a capienza servizi che magari inizialmente ospitavano 20 bambini. E quindi ci siamo trovati ad avere un incremento molto repentino. Questo sviluppo così veloce ha fatto emergere delle difficoltà nella gestione della cooperativa. Difficoltà che non hanno coinvolto l'area dei servizi, come vedete nell'organigramma, ma l'area della programmazione e della direzione, cioè aree intermedie, quelle figure professionali che lavorano dietro alle quinte. Che cosa è successo? Che tutti entravano nel merito di tutto, volendo decidere su tutto, e nessuno si assumeva la responsabilità delle proprie decisioni. Per cui io, che all'interno della cooperativa ho una funzione anche di direttrice, mi sono trovata a dover acquistare pannolini anziché creme o intervenire nella rottura di caldaie o a dover presidiare orari di apertura di servizi. Questa poca chiarezza di ruoli e anche questa, diciamo, scarsa condivisione hanno creato delle tensioni all'interno della nostra organizzazione fra i ruoli e fra le persone che ricoprivano questi ruoli. Al contempo la comunicazione non era più così efficiente e chiara. A livello di direzione è nel 2007, diciamo, che io ho la netta percezione del disagio che si sta vivendo. I campanelli d'allarme sono due. Il clima non più così buono all'interno della cooperativa e gli interventi gestionali messi in atto per condurre la cooperativa rallentati a volte anche inefficaci. C'era molta dispersione nell'azione quotidiana e nella risoluzione anche delle criticità che si presentano, insomma, in ogni organizzazione. A questo punto mi rendo conto che era necessario ripensare l'organizzazione modificando il metodo di lavoro. E mi rendo anche conto che non siamo, non eravamo in grado di portare avanti questo cambiamento da sole perché tutte coinvolte, diciamo, nelle dinamiche. Quindi esplicito questo bisogno all'interno del Consiglio di amministrazione e propongo un percorso di riorganizzazione con l'ausilio di una figura esterna, quello che è stato chiamato lo sguardo straniero. A questo punto abbiamo selezionato alcuni professionisti e la scelta del consulente è stata attenta e mirata perché sono convinta che un professionista, un consulente non vale l'altro. è stata mirata ad individuare una figura in grado di far crescere e maturare l'organizzazione attraverso l'attivazione di un percorso di accompagnamento. Una figura capace di accogliere le ansie, le preoccupazioni, le tensioni che avremmo vissuto e abbiamo vissuto perché comunque i cambiamenti sono difficili. c'è chi ha uno sguardo sempre verso il futuro e quindi li interpreta come opportunità ma c'è anche chi pone delle resistenze. È una figura che fosse anche in grado di valorizzare i saperi e le competenze e in più aggiungo anche una persona che mi aiutasse a rimanere sulla retta via o a tenere la barra al centro in questa fase di cambiamento che comunque è durata tre anni all'interno della nostra organizzazione. L'incontro con Quadia Amiti è avvenuto all'interno di un percorso di formazione sulla gestione delle risorse umane in un'ottica di genere ed è scattato quel qualcosa che ci ha fatto scegliere lei come conduttrice di questo percorso. Adesso le passo la parola perché entrerà nel merito di ciò che è avvenuto all'interno dell'organizzazione. Grazie, sono ancora qua. Forse in questo momento sono più nei miei panni a raccontare che cosa ho fatto all'interno di questa organizzazione. Come ha detto Sandra l'incontro è stato estremamente casuale io gestivo grazie all'associazione delle donne in cooperazione un percorso formativo per la gestione delle risorse umane in un'ottica di genere e all'interno di questo corso erano presenti Sandra Dodi come direttrice della cooperativa Città Futura e Sara Bettocchi che è la responsabile delle risorse umane. Come ha detto Sandra effettivamente è scattato un feeling ci siamo piaciute vicendevolmente. Forse questo è uno dei punti e mi sembrava di coglierlo anche quando Alessandra e Marcello Poli parlavano cioè c'è qualcosa che scatta fra il consulente e l'organizzazione comunque ci si deve piacere a volte alcune consulenze non funzionano non producono gli effetti positivi che si ricercano perché effettivamente c'è qualcosa che non scatta tra siamo persone siamo esseri umani e quindi è necessario che questo succeda. Il lavoro è stato fatto come prima avevo un attimo raccontato appunto ho raccolto la richiesta la richiesta fatta dalla cooperativa ascoltando la storia è uno dei miei punti di partenza mi piace tantissimo ascoltare le storie delle organizzazioni quindi c'è stato un ascolto della storia dell'organizzazione e su questa poi ho fatto con Sandra Dodi e con Sara Bettocchi e su questo poi ho impostato un intervento ho proposto alla cooperativa un intervento molto complesso molto complesso l'intervento prevedeva azioni sia di formazione sia azioni di consulenza individuale in particolare si partiva da azioni individuali centrati sulla individuazione sulla individuazione dei ruoli presenti professionali presenti all'interno dell'organizzazione e sulla esplicitazione di questi ruoli sono i ruoli che avete visto prima all'interno dell'organigramma perché su quelli poi abbiamo lavorato quei ruoli sono stati di nuovo attraverso una modalità narrativa raccolti sia come richiesta dell'organizzazione quindi che cosa pensava l'organizzazione che fossero quei ruoli che cosa qual era l'aspettativa di ruolo per l'organizzazione sia nello stesso tempo delle persone un racconto delle persone che al momento occupavano quel ruolo da questa narrazione prima da parte della cooperativa della parte dirigenziale della cooperativa poi da parte di chi delle persone che occupavano un ruolo si è andate a costituire il ruolo che adesso è stato approvato appunto a livello di consiglio di amministrazione successivamente due ambiti molto significativi che sono stati presi in esame nella riorganizzazione nel cambiamento erano i due ambiti di progettazione quindi il gruppo di quello che viene chiamato l'equip pedagogica educativa e il gruppo delle coordinatrici su questi due gruppi sono stati impostati dei percorsi formativi di gruppo uno per le pedagogiste uno per le coordinatrici proprio di formazione a ruolo in particolare poi ci sono stati dei momenti di lavoro individuale sia con le pedagogiste che con le coordinatrici e vi direi anche in particolare un altro punto molto significativo secondo me è stato la puntualizzazione rispetto ai due ruoli di coordinamento dei due gruppi di lavoro da un lato il responsabile dell'equip pedagogica e dall'altro la responsabile del coordinamento con questi due ruoli ho attivato dei percorsi individuali proprio di supporto al ruolo di responsabilità quindi e poi di lavoro con il loro gruppo in particolare un altro altri due interventi diciamo consulenziali diretti sono stati fatti appunto con la direttrice quindi con Sandra Dodi e responsabile delle risorse umane proprio per andare a supportare la Sara Bettocchi per andare a supportare i due ruoli due dei ruoli che su cui c'era un'operazione di cambiamento all'interno di tutta l'organizzazione il processo è stato complesso è stato lungo e durato tre anni non me ne sono ancora andata dal di lì diciamo anche questo anzi produco lavoro nel senso che comunque alcune cose sono andate avanti alcune cose si sono consolidate altre hanno avuto del cambiamento interno al momento per esempio stiamo portando avanti un intervento richiesto dalla responsabile delle risorse umane sulle competenze delle coordinatrici quindi per lavorare sulla performance e dall'altra parte invece con la responsabile del coordinamento la Rosanna Zannoni per andare a lavorare ancora sul gruppo di coordinamento in questo caso in particolare sulle relazioni fra queste coordinatrici quindi non più in un'ottica di processo di lavoro ma di relazione all'interno del processo di lavoro il percorso è stato sicuramente impegnativo e coinvolgente ma anche molto gratificante nel senso che insomma per quanto mi riguarda io ho visto l'organizzazione crescere maturare acquisire maggiore autonomia e questo insomma è stato per me motivo di soddisfazione ecco ovviamente ci sono stati dei benefici molteplici per noi è stato un percorso necessario i benefici e le ricadute sono sia dal punto di vista economico infatti l'ultimo bilancio della cooperativa è stato chiuso inutile e diversi sono i fattori che hanno portato a questo risultato sicuramente anche il percorso di riorganizzazione perché in questi tre anni noi abbiamo incrementato l'attività senza dover aumentare il diciamo personale di supporto ai servizi nel senso che abbiamo ottimizzato il lavoro rispetto alle figure che come dicevo prima lavorano dietro le quinte mi spiego gli interventi messi in atto per la gestione della cooperativa sono più efficaci e di conseguenza abbiamo recuperato un'efficienza e questo è un primo dato un secondo dato è che imparare a lavorare in gruppo significa confrontarsi scambiarsi idee significa anche condividere dei percorsi per cui si lavora anche promuovendo un senso di appartenenza verso l'organizzazione fidelizzando un rapporto e una relazione in questi anni noi abbiamo avuto anche un aumento della base sociale del 30% ecco è migliorato moltissimo il clima di lavoro all'interno dell'organizzazione e soprattutto si sono anche liberate delle risorse nel senso che l'equipe pedagogica oggi si occupa di aspetti prettamente pedagogico educativi e quindi c'è stata una crescita culturale all'interno dell'organizzazione riflette su il significato l'idea di bambino sul significato dell'infanzia della qualità della vita dell'infanzia questo avveniva anche prima nel senso che come organizzazione ci siamo sempre poste nel mercato non solo come semplici erogatrici di servizi ma anche come persone che si pongono domande ed elaborano delle idee proprie però a maggior ragione oggi questo sta avvenendo e si sono si stanno intraprendendo anche dei percorsi di innovazione all'interno dei nostri servizi ecco la consulenza come diceva Claudia rispetto a questo percorso di riorganizzazione si è conclusa però in un qualche modo si è trasformata e nel senso che Claudia oggi è coinvolta su temi specifici o su obiettivi che come direzione individuiamo ecco direi di avere terminato bene grazie Grazie.